Il rapporto fra banca e imprese è sempre stato difficile e le nuove normative europee rischiano di renderlo ancora più complicato. Ne parleremo il prossimo 23 ottobre di Confartigianato ad aperitivo, alla presenza di Laura Santariello di AVI, Associazione Bancaria Italiana, e Bruno Panieri, Direttore del Dipartimento Economico di Confartigianato. L'ingresso è libero e l'evento godrà anche di preghi di formativo. Grazie a tutti.